tanti auguri di buona pasqua al mondo ne ha proprio bisogno che colpe ha di averci dato in buona fede ospitalità e noi lo stiamo ricambiando comportandoci come i peggiori ultrasi con la scusa di difendere vogliamo sottomettere con la scusa di insegnare vogliamo comandare con la scusa di prevenire vogliamo vietare con la scusa di progredire vogliamo umiliare con la scusa di fare del bene vogliamo conquistare ci inventiamo mille scuse per dirci che siamo diversi da loro per dirci che siamo dalla parte del giusto per dirci che è necessario togliamo la sicura le nostre convinzioni e le carichiamo del tutto e così armati siamo pronti a tutto e adesso facciamo un indovinello di chi sto parlando prima di rispondere pensateci un secondo perché l'unico a non avere veramente colpe è proprio il mondo un po' di rispondere pensateci un secondo perché l'unico a non avere un